Ma lo sapevate che dal 18 marzo 2019 va in onda Buonasera Buonasera? Sì, lo diciamo due volte per rafforzare il concetto. Musica dal vivo, gossip, notizie, chiacchiere e tanta ironia ed allegria. Ci teniamo compagnia per mezz'ora al giorno, tutti i giorni, da lunedì al giovedì, sul canale 11, qui, Video Mediterraneo, e anche 511 in HD. E poi naturalmente sui social, su Facebook, dalla pagina Buonasera Buonasera, e anche su Instagram, stesso profilo, Buonasera Buonasera. Non lo sapevate? Ma come non lo sapevate? Vabbè, sapevatelo.